e adesso con la maglia numero 3 Andrea Piscotti con la maglia numero 6 Ariasno Giura con la maglia numero 5 Slobodan con la maglia numero 19 Ariasno con la maglia numero 28 Pabella con la maglia numero 8 Mato con la maglia numero 35 Ariasno Urasi con la maglia numero 25 Tidoro Ariasno con la maglia numero 3 Ariasno Piscotti con la maglia numero 20 Bambino DOOM 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 Grazie. Grazie.